Ben 22 nazioni da tutto il mondo sono state rappresentate dai poeti che hanno partecipato a Recanati al Festival Mondiale della Poesia Miai e Minescu. Una quinta edizione dedicata ai grandi poeti romantici Giacomo Leopardi e Miai e Minescu. Il coronamento di una serie di rapporti che nascono proprio dal progetto Leopardi nel mondo. Nell'incontro Le Diverse Realtà del Mondo ci siamo incontrati anche con la Romania e con l'Accademia Minescu e da lì è nata una collaborazione che nel corso degli anni ha dato diverse attività, diversi frutti. A me personalmente ha portato un'onorificenza nel 2011 quindi anche una soddisfazione personale. Oggi all'appuntamento mondiale del Festival della Poesia c'è questa tappa a Recanati perché questi due personaggi vengono ricordati in questa edizione del Festival e quindi poeti da tutto il mondo sono convenuti qui per rendere omaggio a questi straordinari uomini che uno in Romania con una sua storia che si conclude a 39 anni e un altro un po' prima a Recanati e in Italia che si conclude veramente a 39 anni hanno dato un contributo alla cultura mondiale veramente unico. E questo è un po' l'obiettivo nostro quello di far conoscere il pensiero e l'opera di Giacomo Leopardi per farlo divenire nel mondo un elemento di una cultura condivisa. Nel perfezionare questi rapporti e nel completare queste iniziative ci rendiamo conto come questo obiettivo è stato raggiunto. 2017 è un anno speciale, possiamo leggerlo anche come un inizio di una programmazione nuova? Direte sì, è il segno un po' anche della rinascita del centro che ha attraversato un periodo non facile, non lo nascondiamo. Oggi possiamo dire con soddisfazione che questo periodo è stato superato e è superato in un anno molto particolare perché sono gli 80 anni del centro i 200 anni dell'inizio della stesura dello Zivaldone e siamo proiettati al 2019 quando sarà il secondo centenario della stesura dell'infinito che nasce qui, nasce in questi luoghi e qui simbolicamente torneranno con una serie di iniziative le opere di Leopardi e tutti in quell'occasione vorranno rendere omaggio alla sua grandezza che oggi è riconosciuta a livello universale. Gli illustri poeti, tra i più autorevoli in campo mondiale, hanno potuto seguire un programma che prevedeva nella prima parte la visita al Teatro Persiani e al Museo Gigliano, per poi fare ingresso al Centro Studi Leopardiani dove presso l'auditorium del Centro Mondiale per la Poesia si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati e la declamazione delle poesie. Questa dimensione internazionale, questa ricchezza di sguardi è notevole. Comunque io intendo sottolineare un'esigenza nei prossimi anni, quella di fare in modo che escano dei libri che anche la poesia contemporanea, sotto il segno di Leopardi, possa essere conosciuta in Italia e nel Botto. Re Canati nel bene e nel male non è più un attivo borgo selvaggio. Grazie proprio a Giacomo è diventato un luogo dell'anima, è un centro in cui tutte le cose che avvengono hanno una conoscenza nazionale e internazionale. Re Canati deve sapere questo e deve programmarsi al massimo, deve diventare una città della poesia, non solo per degli eventi sporadici, siamo uno dei paesi che legge meno poesia. dobbiamo fare uno sforzo sotto il segno di Leopardi per diffondere la nostra poesia in Italia e nel mondo, con tenacia, superando ogni resistenza. Sono molto contenta di essere oggi qui al Centro Studi Leopardiani per questa bella manifestazione perché ricordo quello che c'è stato qui e quello che deve continuare. Il Centro Mondiale della Poesia, l'Anima, Franco Foschi, che già nel 1999, insieme a me, Presidente del Consiglio regionale, ci siamo recati ad Ocrida in Macedonia per mettere una scultura del nostro maestro Bianchi, un volto di Leopardi, nel Bosco dei Poeti. A Ocrida c'è un grande festival, i poeti di tutto il mondo, da un ponte sul fiume, recitano le loro poesie e ogni anno piantano un albero dove c'è la targa di un nome del poeta. Era il luogo migliore per mettere l'immagine di Leopardi, evidentemente. Quella storia, poi continuata, la stima per l'On. Foschi e per il suo amore per la cultura e di sapere creare cultura da questo luogo, mi è sembrata sempre emozionante ed importante. Sono stata anche membro del Centro Mondiale della Poesia per qualche anno, poi i miei impegni, i luoghi, i lavori sono stati diversi. Anche la morte dell'On. Foschi ha comunque dato un cambiamento e quindi ritrovarsi qui con il maestro Bianchi è importante perché comunque il continuare è una storia che non solo valorizza la storia qui infinita di Leopardi ma che anche in tutto il mondo la rappresenta non solo con il passato ma anche con un futuro di poeti internazionali. Il fascino dei luoghi recanatesi, del giovane favoloso, hanno accolto in un abbraccio universale i talenti provenienti da tutto il mondo. Turchia, Giappone, Slovacchia, Romania, Lituania, Repubblica di Moldova, Brasile, Belgio, Spagna, Azerbaijan, Russia, Estonia, Ucraina, Macedonia, Ungheria, Stati Uniti d'America ed ovviamente Italia. Devo ringraziare 22 persone che nella loro creatività poetica e oltre in un modo di una conoscenza ampia non più ristretta hanno espresso il loro desiderio di venire arreganati e addirittura loro si sono pagati il biglietto. È la prima volta, penso io, nella storia che un artista, tanti artisti, tanti poeti si sono pagati il biglietto per arrivare sul Colle dell'Infinito e penso che sia un augurio stupendo e meraviglioso per i prossimi anni e i giovani devono risvegliare dentro di sé l'amore verso la creatività che è il rispetto dell'io collettivo. Oggi l'ispierrezione viene data da due grandissimi poeti mondiali. E credo, Giacomo Leopardi che non è solo l'Infinito ma è come vivere l'Infinito che ha trasmesso e mi auguro che sia di monito a tante persone che leggono Leopardi però forse non lo vivono. Miei Mignesco è un grande poeta che secondo me ha saputo rivelare l'immagine, la sua immagine poetica nello specchio della creatività infinita nella forma spirituale. Recanati è veramente città della poesia e l'abbiamo visto in queste tre giornate che sono state veramente intense e oggi si conclude con questo premio internazionale dedicato a Giacomo Leopardi. Con questi poeti che arrivano veramente da tutto il mondo sta a significare proprio l'importanza che Recanati ricopre, riveste a livello di poesia e non solo. E l'importanza anche che un'amministrazione guardi con un'attenzione particolare alla cultura quando parliamo di una città come Recanati? Quello senza dubbio, anzi, noi come amministrazione stiamo veramente lavorando su Recanati come città della cultura, città della poesia, anche città della musica ma sicuramente quella della poesia con Giacomo Leopardi abbiamo una marcia in più e con il Centro Nazionale di Studi Leopardiani e il Centro Mondiale della Poesia stiamo programmando veramente un contenitore che sia creativo, dedicato alla poesia partendo anche dai più piccoli per cercare di far capire questo linguaggio fin da piccoli per poi portarli fino ai licei e ovviamente ai poeti, quelli più alti. Un'esperienza da ripetere? Un'esperienza da ripetere che è stata molto bella, è andato tutto molto bene con tanti ospiti. Mi ha fatto piacere rivedere la Vice Presidente del Senato, Senatrice Amati che conosco da tantissimi anni e con lei abbiamo vissuto i primi passi di questo Centro Mondiale che questa sera ci ospita. Dei ringraziamenti particolari vanno a Vincenzo Bianchi che è indiscutibilmente l'animatore di questo appuntamento e poi a Ioan Diaconesco che è quale Presidente dell'Accademia Internazionale Michael Elminesco è promotore di questo festival che è giunto alla quinta edizione e ha messo insieme oggi questi due straordinari poeti e quindi il merito suo è quello di essere ritornato qui a Reganati dopo altri appuntamenti nel nome della poesia e nel nome di questi personaggi che uniscono l'Italia e la Romania.